Davide Chio, so che c'è in preparazione un lavoro, una cosa un po' più importante, insomma si parla di un film, di un lungometraggio. Sì, è in produzione questo film per il cinema, La banda dei supereroi, prodotto dalla Real Dreams. Inizieremo le riprese a gennaio, se tutto va bene. Di cosa si tratta? Si tratta, è una commedia, si tratta di questo regista interpretato da me, che siccome è un po' inaffidabile, così ne combina di tutti i colori al lavoro, la produzione gli toglie i fondi per fare il film. E allora lui decide di usare i costumi, insomma un po' l'attrezzatura scenica, per traversirsi da supereroi, lui insieme al suo cast, per traversirsi da supereroi e andare a rapinare i rapinatori, restituendo poi ai derubati la somma rubata, trattenendosi una piccola percentuale e mettendola da parte per il film. Questa è la storia, diciamo. In sintesi. In sintesi, sì. Quando io lavoravo in radio tantissimi anni fa, i miei mi chiedevano sempre cosa fai, ed era difficile spiegare quello che facevo in radio. La stessa cosa accadde poi quando sono arrivato in televisione. I tuoi genitori comprendono perfettamente quello che tu fai, hai cercato di spiegarglielo, ti succede anche a te questa cosa? Vabbè, adesso ormai magari hanno visto un paio dei miei video e si sono rassegnati all'idea di avere un figlio che ha problemi mentali, però a parte questa... Non hanno mai detto però, insomma, quando è che farai una cosa seria, un lavoro serio? Guarda, mi hanno guardato male per anni, però poi adesso si sono finalmente convinti, dato che le cose stanno andando bene, che alla fine il duro lavoro paga. I capelli dritti fanno parte del personaggio, cioè una scelta scenica o cos'altro? Sì, sono il mio look, il mio style, sì, sì. Anche quando si praticava la breakdance? Esatto, esatto. No, proprio ho sempre tenuto questo taglio, proprio da quando ho memoria. Grazie. Grazie.